Il loro piano geniale è debilitarci per poter così arraffare tutto ciò che rimane dal tabaccaio il dottore che fa finta di niente vendendo morte alla gente epidemia di tumori stanno bruciando i cervelli epidemia di coglioni ti vende il cibo dopato con cancro integrato sorrisi di stato l'hanno autorizzato e tu bravo gli paghi le tasse fai finta di niente ti piace la merda si certamente ci sguazzi dentro non capisci il senso della vita sei uno schiavo un burattino conformista abituato non sei mai uscito dal selciato già sei zombie e in più ti droghi spendi i soldi che guadagni in modo idiota non capisci sei finto sintetico dipinto da un pittore che non capisce l'arte che non ha arte nel cuore alla morte di altre persone e il male generazionale carme esistenziale giochi di potere e il fuoco nelle vene negli umani viene spento il bene dove cazzo sta il bene e quindi ciao Grazie a tutti.